Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi vi spiego brevemente una serie di funzioni che vi permettono di migliorare la vostra fase difensiva, sia in termini di opzioni, quindi impostazioni di gioco, sia in termini di utilizzo di alcuni pulsanti fondamentali per appunto migliorare la fase difensiva. Spero che i consigli vi siano utili, anzi se ne avete da darmene lasciate un commento e ditemi la vostra. Prima di partire vi ricordo che se volete magliette del calcio, io ho qua quella di Messi o un'altra di Messi, sarà che è stato l'anno di Messi con la Prodo in MLS e i mondiali eccetera, ma con coupon Lucio10 avete attraverso il link in descrizione fcmaglia.com 10% di sconto e una maglia omaggio ogni due acquistate. Non vi resta fare altro che mettervi d'accordo con i amici, entrare nel sito e fare un ordine. Primo passo semplice è andare nell'impostazione di gioco e disattivare la difesa avanzata e impostare magari la difesa tattica o potete provare un'altra, ovviamente quella che più vi si addice. Semplicemente viene facilitata la gestione difensiva e vi dà la possibilità di utilizzare i pulsanti base per pressing, temporeggiare, il tackle diciamo moderato e poi il tackle classico in scivolata con il pulsante che avete impostato se classico o alternativo. Non fossilizzatevi sul video che scorre, semplicemente una ripresa fatta da qualche partita squad battles che stavo facendo, ma quello che voglio consigliare è imparare ad utilizzare il pulsante L2 su Playstation e chiaramente L2 su Xbox. Per quale motivo? Perché è il tasto per temporeggiare, specialmente quando avete un utente avversario che skilla, l'importante è temporeggiare. Poi sarà lui probabilmente a venirvi anche addosso durante la skill. Altra cosa importante, utilizzate l'intervento con cerchio o con B su Xbox, che è un intervento appunto moderato, come quello che avete visto appena adesso del mio centrocampista. Per quale motivo? Perché l'animazione della scivolata, per quanto è importante in alcuni casi la scivolata classica, ha un'animazione molto più lenta, ho notato, rispetto ai passati FIFA. Quindi necessita di magari quei millisecondi in più per entrare in scivolata, quando l'avversario magari potrà già spostare il pallone con un trick, eccetera, eccetera. Ultima cosa, ma assolutamente importantissima, cercare di evitare di subire gol tramite kickoff glitch. Come vedete c'è un kickoff glitch, che è lo stesso di FIFA 23, che permette attraverso un paio di passaggi rapidi di lanciare la propria punta verso la porta quasi guarnita, uno a tu per tu contro il portiere. Ma se imparate a selezionare il difensore centrale, come vedete adesso, in questo momento, quando vedete il difensore centrale è qualche metro dietro. Quindi in questa sezione è necessario andare a selezionare il proprio difensore centrale più arretrato e portarlo quei 5-10 metri indietro, in modo tale che, qualora l'avversario facesse questo kickoff glitch, non potrà andare a tu per tu per il portiere, perché probabilmente prenderà la palla del nostro difensore con un colpo di testa, un intervento, eccetera, eccetera. Altra cosa importante, quando l'avversario vi punterà sul fondo, venendo dalla zona del calcio d'angolo, dal vertice basso, verso il primo palo, è importante avere un difensore selezionato, temporeggiare verso l'attaccante esterno avversario, perché c'è un bug dove è possibile facilmente far gol, è facile segnare, saltando il portiere dal primo palo quando il portiere esce. Quindi è importante essere lì pronti per evitare che l'attaccante avversario abbia facilità nell'arrivare nel primo palo, arrivare davanti al portiere, saltarlo e segnare. Ora non vi resta che dirmi la vostra, fatemi sapere qual è il vostro metodo difensivo migliore che avete riscontrato in questi giorni. Se vi posso dire un giocatore economico che mi è piaciuto un sacco in fase difensiva, è Conate, 5-6 mila crediti che veramente li vale tutti. Ditemi la vostra e ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao!